Non ha diritto al voto ed è anche interdetto dai pubblici uffici ma la politica lui Totocoffaro ce l'ha nel DNA. Una passione sempre viva alla quale non vuole rinunciare e così l'ex governatore forte della sua esperienza mista a lungimiranza si diletta a leggere le dinamiche attuali e prova a lanciare le idee su un terreno che oggi francamente si presenta pesante ed impantanato. La sua proposta è creare in Sicilia in vista del regionale di autunno una grande coalizione che vada dal PD a Forza Italia passando per i vari movimenti di centro ma il semaforo rosso è scattato puntuale sia Fausto Raciti segretario in Sicilia del Partito Democratico che Gianfranco Miccichè responsabile siciliano dei berlusconiani hanno bocciato le sue idee e lui rievocando aggiungiamo noi una celebre frase di Giulio Andreotti a pensa al male si fa peccato ma molto spesso ci si azzecca crede che il suo progetto sia stato respinto semplicemente perché proviene da un ex carcerato. Se così fosse saremmo di fronte ad un grave pregiudizio tuona Cuffaro tornato libero dopo avere scontato 5 anni in prigione per favoreggiamento alla mafia se c'è chi pensa aggiunge l'ex governatore che io debba rimanere carcerato per tutta la vita si sbaglia le mie idee non possono restare chiuse in una cella io non ci sto come ho rispettato la giustizia scondando una condanna che considera ingiusta gli altri rispettino me io non ho proclamato alleanza spiega poi Cuffaro ma ho lanciato solo una proposta che secondo me può essere utile per la Sicilia dove si potrà sperimentare quello che accadrà aggiunge l'ex governatore a Roma con il ritorno al sistema proporzionale.